è meravigliosa, è finito l'allenamento buongiorno ciao margherita panziera c'è la panziera alla faccia della panziera la margherita panziera va che è una meraviglia brava e bella lo dico io ben trovata la niene grazie anche finito l'allenamento? si si oggi c'era singolo come c'era singolo scusa è mercoledì solo uno ah solo uno vedo già che c'è i segnetti è il segno della cuffia poi che sono dorsista sempre è l'inizio dell'estate della panziera ho sbaglio? eh beh si si riassumiamo la panziera campionessa italiana in lunga record italiano con lei la quale bella brava alta simpatica e riesce sempre a mettere dietro anche Federica Pellegrini vabbè no mica sempre ah come mica sempre basta quelle volte che voglio dire non è che succeda proprio così voglio dire di frequente in Italia beh ma comunque Federica ha iniziato a notare dorso penso da poco tempo il suo stile è comunque lo stile libero io invece mi alleno a dorso da tutta la vita quindi magari ci sta che qualche volta riesco a mettere la mano davanti io a volte lei insomma margherita bella ma come si sta a Roma? bene bene si si qua a Roma cioè comunque sono andata via di casa perché tu racconta un po' da dove arrivi eh io vengo da Montebelluna in provincia di Treviso il posto delle bollicine no? del prosecco si si esatto tu sei tutta una bollicina insomma in acqua eh volendo anche pensando a quello eh e niente quindi a 19 anni finita la maturità sono venuta qua a Roma comunque alla Niene mi ha dato sempre tutto tutto quello di cui avevo bisogno e quindi devo si devo ringraziarli proprio tanto e niente mi trovo continuo a trovarmi bene è casa? si ormai è diventata casa mia è casa però l'accento romano non è arrivato no no anzi ma guarda che quando vengo su a casa mi prendono in giro perché c'è questo accento romano ah non con due le pino eh perché dall'alto sentono sempre le diversità come dire eh senti Margherita ma questa estate come sarà? diciamo dai apriamo un po' il gas eh vabbè questo dorso dove deve arrivare? eh ci sono gli europei a Glasgow i primi di agosto eh quello bisogna fare e vabbè prima ci sono anche giochi del Mediterraneo a giugno è una roba intensa si si beh ma anche l'anno scorso è stato parecchio intenso ho finito a fine agosto quindi però te ne stai qui tranquilla serena appunto te ne vai a fare collegiali in giro per il mondo no io preferisco comunque rimanere qua con il mio allenatore perché è diciamolo perché è Gianluca Belfiore Gianluca Belfiore che allena anche altri soggettini Alex Di Giorgio Ilaria Scarcella Filippo Berlincioni Lorenzo Tarocchi e Valerio Oriente e il gruppettino se ne sta qua a fianco alla moschera come si dice no perché dobbiamo spiegare la piscina vostra a Roma la Niene sta a fianco alla moschera no? si si nota di dettaglio per chi volesse venire a vederti mentre ti alleni senti ma è vero che studia economia? si mancano tre esami per laurearmi prossimo ministro dell'economia no 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 non voglio mettermi in politica no ma perché perché l'economia è politica è certo che si ti sei scelta un berramino economia del nuoto come lo vedi questo modo del nuoto? in crescita? e beh si si negli ultimi anni comunque anche secondo me anche grazie a Federica gli ha dato un po' una svolta come si dice un po' di pubblicità non so come dire di movimento di marketing esatto poi anche su Inbiz voglio dire che fa tutti questi rumor che si occupa anche di economia del nuoto no? è una cosa un po' particolare no? non trovi? si 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 senti domanda ma tu a fondo ci vai sempre? hai capito a me? hai capito a me? il Ruffini è sempre lì? si si il Ruffini ci sta sempre sempre copia e quindi si si presto presto e ti si è illuminato tutto l'altro in modo particolare ho sbaglio ma tu a fondo però no perché tu sei no 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 proprio no no ma neanche un tentativo così neanche a mare no 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 allora quando ero giovane ancora a Montebelluna sono andata a fare una gara di fondo al lago di Caldonazzo 4 chilometri e mezzo e ti è bastata? mamma è stata terribile ho pianto per mezz'ora dopo che ero uscita è stata un'esperienza traumatica quindi lasciamo perdere lasciamo perdere teniamoci solo l'amore per il fondo esatto quello sempre Margherita che dirti ci vediamo al Sette Colli? eh si si Sette Colli Sette Colli e poi dopo Glasgow e tutta quanta l'estate come dire alla prossima con il flash acquatico di Swim Beans ciao un bacio ciao 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 ciao